ciao a tutti amici bentornati a darsi spazio oggi volevamo aprire questa puntata con una citazione di marco guzzi da un post che ha pubblicato su facebook qualche tempo fa che in questo caso marco castellani ci suggeriva salve a tutti prego prego allora leggiamolo soltanto lo spirito che in questo istante sta dando la vita alle foglie del ficus sul mio terrazzo soltanto la potenza creatrice che mi sta donando questo esile respiro dolcissimo e tenue filo di vita soltanto la mente geniale che lascia ruotare le galassie nella loro danza nucleare potrà guidare anche i miei passi in queste parole poetiche troviamo già degli spunti interessanti come per l'appunto la danza delle galassie esatto esatto noi sappiamo per l'appunto che siamo prossimi ad una collisione con la galassia di andromeda non dovrebbe preoccuparci molto sia perché ci manca qualche milione di anni sì anche qualche miliardo possiamo stare abbastanza tranquilli però potremmo ragionare un pochino sul fatto che due entità come le galassie vengano a collidere per formare una nuova entità spaziale giusto spunto caro gabriere intanto buongiorno e benvenuti a questa nostra seconda puntata mi ha molto colpito questa frase e l'accenno di marco guzzi alla danza delle stelle delle galassie perché quello che sappiamo adesso rispetto a quello che sapevamo prima è che l'universo è veramente una danza sconfinata di milioni miliardi di galassie la nostra galassia è una danza di stelle che girano intorno al centro fra l'altro ecco piccolo particolare che non sempre si sa ma che marca a volte ha accennato noi siamo lo stesso nostro sole è in questa danza enorme si muove intorno al centro della galassia ha una velocità di tutto rispetto siamo sui 220 chilometri al secondo che se fai conti sono circa 80 mila chilometri all'ora quindi frecciamo nello spazio a velocità incredibile non lo vediamo perché tutto si muove con noi ma siamo immersi in questa danza cosmica a grandissimo abbrivio con grandissima velocità quindi siamo 80 mila chilometri all'ora che stiamo girando intorno alla nostra galassia tutte le altre stelle fanno più o meno la stessa cosa e come ricordavi molto bene te stiamo andando ci stiamo avvicinando a una galassia che si chiama andromeda e ci scontreremo però con tutte le cautele di questo termine come accennavi tu fra qualche miliardo di anni il fatto non deve tanto preoccuparci intanto per la distanza temporale perché non saremo qui credo a parlarne ma anche perché le galassie sono per quanto così appariscente a vedere sono fondamentalmente vuote cioè fra una stella e l'altra c'è tantissimo spazio l'universo è così grande che le stelle sono molto lontane fra di loro e compenetrare due galassie potrebbe essere molto meno drammatico di quanto si pensa potrebbe anche essere che nei nostri intorni non ce ne accorgiamo quasi potrebbe cambiare il cielo sopra di noi in qualche modo sicuramente cambierà ma potrebbe non esserci un effetto molto impattante su eventuali diciamo abitanti della terra la distanza da questo l'effetto diverso potrebbe essere quando il sole andrà a finire questo sì sarà impattante insomma non so se poi su questo ne vogliamo parlare ecco il sole dovrebbe avere correggimi se sbaglio ancora 5 miliardi di anni di vita 4 5 miliardi perfetto perfetto però noi sappiamo anche che il tempo per l'appunto è un concetto estremamente relativo questo tempo in realtà l'umano secondo te potrebbe riuscire in qualche modo a gestirlo e a cavalcarlo in modo un po più libero domandone caro capire domandone molto pregnanti e pertinenti dall'aspetto fisico ma domandone perché chiuderei intanto un attimino il discorso sul sole che abbiamo accennato e che accenni anche te sì hai ragione il sole ha circa 4 miliardi di anni ancora di autonomia poi siccome è una stella e brucia come le stelle il combustibile nucleare al suo interno non è eterno a un certo punto finirà finirà in maniera un po distruttiva probabilmente per la nostra terra perché si espanderà tecnicamente si chiama gigante rossa una stella molto rossa molto grande e come minimo le temperature sulla terra diventeranno un pochino imbarazzanti diciamo bisogna mettere le cose nel contesto per evitare allarmismi parliamo di qualcosa che sarà miliardi di anni da adesso se noi consideriamo che in cento anni più o meno abbiamo imparato dai primi voli siamo arrivati fino sulla luna e oltre noi non sappiamo in miliardi di anni dove andremo e non è implausibile potremmo colonizzare altri pianeti altri sistemi solari in maniera da insomma trasferirci volta per volta dove dove è meglio sempre che non decidiamo di autodistruggerci fra di noi cosa che ogni tanto insomma a cui ogni tanto purtroppo andiamo vicini detto questo e quindi sfatate un attimo eventuali allarmismi effettivamente il discorso sul tempo è complesso e articolato quello che possiamo dire partendo proprio dalla cosa più semplice che l'idea di un tempo inesorabile che si muove sempre secondo lo stesso ritmo è un'idea come un po' accennavamo nell'altra puntata errata un'idea che sta nella nostra mente ma non è non è garantita non è supportata dalla fisica moderna il tempo per la fisica moderna è veramente relativo il tempo cambia se noi ci muoviamo a velocità diverse il tempo cambia se addirittura siamo vicini a un pianeta molto grosso una stella perché la massa rallenta il tempo queste sono cose che sono ben provate da einstein quindi hanno circa un secolo di vita queste nozioni ma facciamo fatica per tornare proprio al tuo impianto della domanda facciamo fatica ad assumere il significato di questa evidenza fisica e accennavamo l'altra volta al fatto che cose elementari come per noi dire sono due cose contemporanee a rigore nell'universo non sono date non si può dire come due cose sono contemporanee se due osservatori si muovono in senso diverso con velocità diverse per cui a questo punto io torno anche alle grandi tradizioni che tu mi presenti molto bene diciamo così per gli illuminati per i grandi mistici il tempo è diverso da quello che noi abbiamo poi ti chiedo una conferma di cui noi abbiamo in testa e diventa quasi possibile come dicevi tu fare questa sorta per tornare alla tua analogia di conversione a u di evadere da questo senso inesorabile del tempo no a einstein dice che se ci muovessimo più veloci della luce potremmo tornare indietro nel tempo ora questo se non è possibile in senso fisico forse ci dice qualcosa in senso però spirituale o di coscienza in qualche modo io penso penso che questa frontiera sia una frontiera ovviamente ancora molto lontana ma possibile da un punto di vista spirituale magari anche in chiave esclusivamente simbolica no viene in mente babbaggi che sarebbe proprio uscito fuori dai canoni spazio temporali e c'è chi narra di incontrarlo eccetera eccetera quindi sembrerebbe proprio che a un certo punto un soggetto nella sua crescita interiore evada dalle catene lo spazio del tempo tra un miliardo di anni cosa arriveremo a fare a livello tecnologico questa domanda è chiaro che deve arrivare a questo punto ma è difficile dirlo è difficile proprio per quello che tu dicevi di accelerazione incredibile ti faccio un esempio anche preso dal mio campo tecnologico scientifico quando io studiavo astronomia si prendevano i diagrammi delle stelle si facevano le immagini di cento cinquecento mille stelle se andava bene ed era la frontiera in pochi anni una generazione più o meno abbiamo i dati del satellite gaia fra cui in cui sto lavorando anch'io ma tante altre persone che ci trasportano a terra dati per miliardi di stelle abbiamo cataloghi di miliardi di stelle e quindi siamo proiettati in una realtà anche computazionale tecnologica molto diversa da quella che è stata sempre nostra congeniale per cui dire dove arriveremo fra miliardi di anni è problematico c'è da capire come dici te se riusciremo in qualche modo a evadere questi confini dello spazio tempo così statuari che sembrano così statuari e arrivare a giocare un pochino con le dimensioni temporali si parla di buchi bianchi si parla insomma di trasferimento da un universo ad altri cose che ci sembrano totale fantascienza adesso però ricordiamoci che due tre secoli fa ci sembrava fantascienza quella che noi abbiamo raggiunto per cui io credo che per il carattere di accelerato che ha questa nostra traiettoria non possiamo neanche dire dove riusciremo arrivare e forse ci serve una miglior comprensione anche della fisica di base per sapere quello che la fisica stessa ci permetterà di fare parliamo di velocità della luce oppure di entanglement di trasmissione delle informazioni su scala che non rispetta la necessità di muoversi a velocità della luce quindi sono campi aperti di esplorazione che come dicevamo anche per i computer quantistici dobbiamo percorrere per capire per capire veramente se siamo limitati in questa zona di universo da queste leggi della fisica o se potremmo trovare un modo per non violare ma per ampliarle e raggiungere nuovi orizzonti è difficile senz'altro capito adesso siamo arrivati a sviluppare il viaggio sulla luna ci abbiamo messo due milioni di anni poi dal viaggio sulla luna tutto il resto fino all'intelligenza artificiale ci abbiamo messo 60 anni no quindi stiamo parlando di un'accelerazione che se la andiamo a misurare è già quasi molto ripida molto ripida la curva quindi questo concetto di singolarità che è una parola che noi sentiamo spesso che cosa andrebbe a comportare davvero cioè come se noi adesso scopriamo una cosa talmente tanto rivoluzionaria in questo specifico momento adesso che sono le 7 meno 5 che stravolge completamente la realtà e alle 7 meno 4 ne scopriamo un'altra che la stravolge ancora di più fino ad arrivare a un punto tale in cui le scoperte sono talmente tanto veloci da entrare un'esplosione di rivoluzione direi tecnica basta pensare all'esplosione di internet che ha superato qualsiasi sogno di trasmissione delle informazioni e tante altre cose mi vengono in mente due riflessioni una che questa è così esplosiva così così forte così robusta questa accelerazione che va affrontata un po come stiamo cercando di fare noi nel nostro piccolo in maniera unitaria cioè non può essere lasciata solo la scienza non può essere lasciata solo alla politica o l'economia questo governare cercare di governare questa questa corsa verso la singolarità tecnicamente in fisica la singolarità è un punto anche di non ritorno si parla della singolarità per esempio del buco nero è un punto in cui non si riesce più a evadere neanche una luce può uscire da questa singolarità se noi ci propinquiamo tecnologicamente una singolarità ecco la seconda riflessione che mi viene è che diventa urgente per noi lavorare sulla nostra consapevolezza secondo infinite strade ma non possiamo più permetterci di cavalcare passivamente il dato tecnologico senza governarlo perché altrimenti ci spodesserà totalmente dalla guida da questa ipotetica macchina non saremo più noi a guidare si parla spesso anche di per esempio gli scenari di guerra governati dell'intelligenza artificiale che fa fuori chi l'ha creata se nello suo scenario risulta conveniente nello scenario di guerra che si sta che si sta diciamo prospettando per cui senza arrivare a queste cose così diciamo estreme sicuramente c'è necessità di governare il processo e c'è una parte di imprescindibilità cioè noi non riusciamo a vedere più avanti di tanto perché noi vediamo in qualche modo in modo lineare mentre la curva è esponenziale cioè le scoperte si susseguono in un modo tale che neanche lo scienziato neanche il tecnico riesce a vedere più avanti di tanto nel futuro perché il futuro lo brucia sempre questo è esaltante da un certo punto di vista pensiamo alle conquiste dello spazio che abbiamo fatto si parla di andare su marte e si parla di andare su marte in maniera concreta in questo momento ma è anche inquietante per altri versi perché non c'è bisogno di ricordarlo tutti gli usi potenzialmente dannosi estremi che si possono fare con la tecnologia insomma quindi siamo in una zona di grande ambiguità per tornare anche al discorso della prima puntata tra un anno e l'altro le scoperte sopravvanzano anche ciò che si è scoperto in secoli nell'epoca passata questo è esaltante e inquietante lo stesso tempo quindi diciamo non sembrerebbe così ardita l'ipotesi di immaginare che questo tempo diventi sempre meno lungo tra una rivoluzione tecnologica e un'altra fino ad arrivare a un tempo zero sì potenzialmente sì certo questo onestamente spiritualmente è una delle cose che mi affascina di più questo è un po il punto no che in genere l'ignoto fa paura perché ciò che non è conoscibile fa paura ma io ci vedo un po tutta una serie di anticipazioni materiali di quello che poi deve avvenire da un punto di vista spirituale questo perché perché noi sappiamo bene che un percorso iniziatico serio di qualsiasi tipo non può prescindere da una profonda discesa all'interno del proprio essere fino ad arrivare a quelle che sono delle paure fondamentali che noi conosciamo bene e pratichiamo all'interno del percorso di darsi pace questa paura dell'annullamento questa paura di quell'abisso e quell'abisso poi si scopre invece essere un luogo fecondo anzi cosa voglio dire voglio dire che secondo me la tecnologia finché diventa un aiuto che ci porta però magari ad alleviare delle problematiche ci porta magari a risolvere delle problematiche perché questa realtà può essere applicata anche in campo medico si è tradotta in tecnologie utili per la nostra vita quotidiana io vorrei proprio fare un invito a chi ci ascolta a vedere positivamente anche guarda è giustissimo devo dire fra l'altro che l'impostazione che io ricevo che noi abbiamo ricevuto anche nei corsi di marco cucci nel percorso di darsi pace cui ci riferiamo giustamente è un'impostazione che da scienziato ho sempre trovato la più stimolante la più utile anche perché in fin dei conti se pensiamo sia la demonizzazione della tecnologia che la sua esaltazione irriflessiva entrambe portano a una deresponsabilizzazione della persona cioè o mi faccio prendere dalla paura come dicevi te oppure la esalto in maniera critica ma a quel punto io comunque non sono consapevole di quello che sta succedendo nel senso proprio e per cui per cui siamo ad un punto interessante e io riprendo ancora marco guzzi quando parla di crisi come opportunità questo è un momento uno snodo per certi aspetti un momento che ci può mandare in crisi perché tutto si muove più velocemente però è anche un'opportunità favolosa scusate se qui io torno anche al mio mestiere all'universo adesso abbiamo una percezione di bellezza dell'universo su cui cui i nostri nonni mio nonno i nostri genitori stessi avrebbero dato tutto e non possono se io apro internet un momento di noia così vado sul sito della nasa sul sito dell'inaf sul sito dell'esa ho delle immagini straordinarie di pianeti di ambienti che io ho relegato fino a ieri nella mia fantasia e le vedo e sono a mia disposizione quindi c'è una percezione di bellezza c'è una percezione di potenza e di capacità anche umana a fin di bene a fin di conoscenza e di consapevolezza che non c'è mai stata al contempo come dici tu è una cosa che va molto in accelerazione e che dobbiamo imparare a governare ma un punto migliore è l'equilibrio fra pessimismo e ottimismo secondo me cioè capire che è una cosa buona ma è una cosa buona che va governata la tecnologia non va lasciata a se stessa e come ben dicevi tu anche la demonizzazione non aiuta a governarla come non aiuta l'ottimismo estremo ma stare coi piedi per terra capire il carattere ambiguo di questa cosa come mi ha insegnato anche marco guzzio ma devo dire è totalmente rispondente anche quanto vedo come scienziato questa è la posizione più responsabile a cui io credo forse siamo chiamati come umanità in generale sicuramente questa è una riflessione molto equilibrata e condivido pienamente e andrei in chiusura anche di questa puntata citando un passo apocalittico che secondo me è molto appropriato in questo momento no giovanni dice vidi nuovi cieli e nuova terra quindi non vede solo una nuova terra quindi non vede soltanto una evoluzione se vogliamo dal punto di vista fisico materiale nella visione orientale per esempio lo yin l'energia yin yang nel taoismo queste due facce una bianca e una nera in cui quella nera rappresenta un po l'energia visibile molto densa e condensata che da sola è praticamente un nulla e lo yang invece questa energia di fuoco di spirito un po più rarefatta che si compenetra perfettamente forma un uno nelle parole di giovanni io ci vedo anche un po questo nuovi cieli e nuova terra cioè forse questo aspetto tecnologico ci porta verso una nuova terra inteso proprio una nuova visione della dell'aspetto materiale a tutti i livelli quindi anche cosmico e magari questo potrebbe anche essere il terreno in cui provare a lanciare questo messaggio a lanciare questa idea questa bella coniugazione tra spirito e tecnologia sì sui nuovi cieli effettivamente anche la scienza ci dà l'opportunità integrata con la spiritualità di vedere nuovi cieli perché effettivamente abbiamo davanti un nuovo universo io dico sempre che è un nuovo universo se facciamo anche un esempio molto banale pensiamo ai pianeti extrasolari alle altre terre io quando studiavo negli anni 90 non si conoscevano che due o tre pianeti al di fuori del sistema solare e quindi ci si e ci si pensava ci si croggiorava in un modello di universo sostanzialmente in ospitale in cui la terra era un unicum e tutto il resto era sai quando si dice siamo nel freddo cosmico che invito ci è stato dato dalla scienza moderna che adesso conosce migliaia di esopianeti pianeti fuori dal sistema solare e ogni giorno nei cataloghi che si consultano anche liberamente online se ne aggiungono altri che idea ci porta di un universo più comunque ospitale più adatto alla vita c'è un'idea veramente da lavorare più feconda in cui noi possiamo innestare questa questa domanda di consapevolezza questa ricerca per essere più orientati più centrati per non essere sballottati né dal pessimismo né dall'ottimismo esagerato ma forse diventare anche più protagonisti ritrovando proprio questi semi che le grandi tradizioni poi ci hanno sempre ci hanno sempre dato e che forse però un livello nuovo corroborato anche dalla scienza stavolta possiamo aggiungere possiamo dare il nostro di più che forse è caratteristico anche di quest'epoca in cui viviamo e esistiamo noi adesso approfittiamo proprio per quasi ringraziare anche i grandi maestri del passato senz'altro che c'erano arrivati in maniera sintetica in maniera sintetica a cose che noi stiamo ritrovando in maniera analitica ma confermandole e quindi questo è uno scenario armonico su cui possiamo lavorare e possiamo anche confortarci su questo bene grazie mille anche oggi grazie per l'ascolto e alla prossima dunque ci vediamo alla prossima ciao grazie ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti